Buongiorno ragazzi! Allora, è da un po' che non realizzo video vlog, infatti mi sembra anche un po' strano iniziare questo video così. Comunque, oggi ho deciso di portarvi con me perché sarà una giornata un po' diversa dal solito, nel senso farò cose diverse dal solito, cioè non andrò in università e non studierò tutto il giorno. Ho deciso appunto di portarvi con me questa mia giornata, iniziando in particolare questo vlog a luna, quasi precisa, a luna. E infatti, guardate un po', sto per pranzare con una bella pasta al pesto, tranquilla, veloce, bella. Questa mattina ho semplicemente studiato, mi sono organizzata, ho fatto il piano di studi per le prossime settimane. Ora appunto faccio pranzo e intanto mi guardo l'episodio 3 della seconda stagione di un professore, bella, bella, mi piace un sacco. E ormai tutti i pranzi, tutte le cene, mi guardo almeno appunto un episodio o a pranzo oppure a cena. Stamattina infatti non ho avuto università anche perché siamo in vacanza, solamente vacanza per poter dire perché comunque si continua a studiare per preparare i prossimi esami. E però dai, almeno sia tutto il giorno per poter studiare e non qualche ora. Comunque adesso mangio la mia buona buona pasta e ci vediamo dopo. Ho finito di guardarmi la puntata del professore qui nel mio lettino, poco viola direi, poco viola e rosa. Comunque, tanto i piatti ultimamente non li sto più lavando a pranzo perché, cioè, i piatti, un piatto, una pentola, una cosa, quindi lavo tutto la sera. E mi trovo meglio così, anche perché non ho proprio voglia di lavare i piatti dopo pranzo. Comunque, adesso mi rimetto a studiare. Allora, avendo mattina e pomeriggio di studio, stamattina l'ho dedicata a una materia e poi adesso dedicherò il pomeriggio per un'altra materia. Perché sto preparando, appunto, due esami contemporaneamente, ma ormai è la normalità. Cioè, non mi devo più stupire, non ci stupiamo più. Comunque veramente avevo tantissimo bisogno di parlare con voi e mi fa bene, non so, è come una seduta psicologica in cui appunto parlo. E poi è bello perché comunque ci confrontiamo, voi mi potete dire cosa pensate. È bello, 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 bello questo scambio. È stato un periodo, non mi avete visto tantissimo perché è stato un periodo molto pieno. Ho avuto infatti il laboratorio per sei giorni. I giorni di laboratorio sono sempre molto, 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 molto lunghi. Perché durano dalle nove alle sei, con tipo un'oretta di pausa. E quindi sono molto provanti, ecco. Però è stato un bel laboratorio, è stato un laboratorio di sintesi dei farmaci. E poi ho avuto, vabbè, qualche esame in mezzo, qualche crollo psicologico per l'università. Però, vabbè, ci sta perché ve l'ho detto mille volte, il mio percorso lungo, cioè il mio. Il percorso universitario in genere è lungo e tortuoso, però ci sono facoltà di tre anni e altre di cinque, altre di sei come medicina. La mia è da cinque, è CTF, chimica e tecnologie farmaceutiche, per chi non lo sapesse, e stia vedendo per la prima volta qui. Quindi è un percorso lungo e tortuoso, bisogna avere la costanza e non demordere mai. E questa è la parte difficile. Questo non mi avete visto tantissimo. Non sempre, ed è, va bene così, non sempre ci riusciamo ad organizzare. E va bene, sto imparando ad accettarlo, anche perché devo imparare ad accettarlo, sennò è un guaio. Adesso io vado a, appunto, mi metto a studiare. Poi ci aggiorniamo più tardi perché dovrò cucinare le crepes, la Nutella, perché ho delle uova da far fuori, semplicemente. E poi mi devo preparare per andare ad una festa di laurea stasera, quindi, cioè, oggi giornata va riegata, è diverso dal solito, perché non portarvi con me, assolutamente sì. Sono le sette e mezza, più o meno, e prima di cenare voglio preparare l'impasto per le crepes, perché poi deve riposare mezz'ora in frigo, quindi lo preparo. E mentre poi lui si riposerà in frigo, io farò cena. E ho preparato già tutti gli ingredienti, che sono tre, vabbè, quattro, se proprio uno vuole essere pignolo. Ovvero, latte, utilizzo straordinariamente quello di mucca, che io non utilizzo praticamente mai, però, boh, per le crepes sì, perché comunque vengono più, vengono proprio le crepes vere. Poi, uova, e infine farina. Quindi, tre ingredienti, poi vabbè, un pizzichino di sale, e alla fine per condire, la Nutella, tra l'altro guardate che carina questa qua. Le stanno facendo molto, molto belle, i vasetti proprio di Nutella, molto carino. Se vi può servire, questa è la ricetta, ovviamente io avendo quattro uova da far fuori, ne farò il doppio, quindi tutte le quantità moltiplicate per due, e nulla. Quindi, se vi può servire, ve la lascio qui. I numerini a fianco, questi qua, uno, due, tre, quattro, indicano semplicemente l'ordine di aggiunta nella ciotola. Basta, perché io sono molto pignola e precisa, quindi me li sono segnati. Volete sapere come è andata a finire? Sì, alla fine, vabbè, mi sono messa in canotta, perché è caldo. Guardate, alla fine ho dovuto cambiare la ciotola, perché era troppo piccola quella che avevo. L'impasto pronto, bello liscio, cioè sono stata, non so, 20 minuti a girarlo con la frusta, perché sono fissata con il fatto che l'impasto deve essere liscissimo. E quindi, niente, adesso riposo per mezz'ora in frigo e poi le preparerò. Celetta super leggera, anche perché dopo la festa mangerò qualcosa. Quindi, bruschettina con pomodorini e poi mi devo finire lo stracchino. E, ovviamente, puntata dei time di oggi di Amici. Perché io dico, sì, sì, tranquilla, tutto il tempo. Che capelli ho! Sì, sì, ho tutto il tempo, eh. E poi devo ancora scegliere l'outfit, devo scegliere come truccarmi. Devo finire di far cena, devo fare le crepe. Dio, ragazzi. Tutto questo in meno di due ore. Ce la farò? Comunque, vabbè, maniamo che la soluzione è tutto. Allora, sono le otto e mezza. Ho finito adesso di cenare, ho anche tolto la tovaglia, li ha sparecchiato. I piatti sono ancora qua perché probabilmente me li lascio per domani mattina. Anche le crepe non so se riuscirò a farle adesso. Dubito. Nel caso le farò domani mattina, così sono belle calde. Ovviamente solo per quello. Adesso voglio fare una cosa, ovvero scegliere l'outfit. Così poi mi stiro i capelli, ecco, perché prima mi sono dimenticata che devo anche stirarmi i capelli. Boh, quando io li devo preparare, eccetera, ho l'ansia. Non so nemmeno perché c'è. Sei tranquilla, vabbè, solo l'ho fatta io così. Sono passata la fase stiratura e ho stirato metà testa in questo momento. Comunque stavo notando, ma guardate quanto sono lucenti i capelli. Il merito è suo. Questo qui è un protettore dal calore di Avon. E niente, è veramente fornito da mamma. E' bellissimo. L'ho messo ieri quando ho lavato i capelli, prima di asciugarli, quindi sui capelli bagnati. E, cioè, l'effetto poi si nota, appunto, stirandoli, troppo troppo lucenti. Cioè non ho messo nient'altro, è solo questo dopo aver lavato i capelli ieri, prima di asciugarli. Top. Allora, l'outfit ve lo faccio vedere dopo. Prima passo al trucco. Comunque i capelli sono finiti, piastrati. Adesso, mollettine, queste qua le ho prese su Amazon, le volevo troppo perché le vedevo dappertutto. E' in giro, appunto, per truccarsi e quindi ho detto, devo assolutamente prenderle così non ho i capelli in mezzo ai piedi e, cioè, in mezzo alla faccia. E però dall'altra parte non li rovina. Cioè, se hai fatto la piega, ecco, stanno tranquilli, belli belli. Guardate qua che specchio mi sono presa, eh. Mi sono attrezzata, l'avevo detto. L'ho preso su Amazon. Fantastico. Oh, mamma mia. Con tutte le lucine, l'ingrandimento. Ce la posso fare? Questa l'ho presa su Shein, questo Beauty, a tre. E dove ho tutti i trucchi, praticamente. Pennelli vari. Partiamo. No, vabbè, ma sto specchio è bellissimo. Bello. Vedete proprio tutto, cioè, ti voglio vedere tutto. Tutte le imperfezioni. Tutto, ok. Iniziamo subito, infatti, proprio per tutte le imperfezioni, con il correttore, questo qui di Shiglam, colorazione nude. Vabbè, non si vede la massa. Comunque, la colorazione nude. Ed è fatto così. Io mi ci trovo da Dio. È troppo bello, veramente. Caricato così. E soprattutto è la mia colorazione. Quindi mi coloro, mi... Sì, mi coloro. Mi copre le mie occhiaie da panda. Poi utilizzo questo pennellino qua. Così lo spalmo bene. Comunque ho 20 minuti per truccarmi. Lo metto anche sopra le palpebre. Vedete? Per farle chiare. E poi per fare la base. In questo caso mi serve anche da base per l'ombretto che metterò. Per quanto riguarda il trucco, dato che, diciamo, l'unico colore è l'azzurro del mio outfit, perché il resto poi è nero, opterei per una cosa semplice. Però, non lo so, sul nude, tipo... Cioè, sul nude, sul marroncino, come sempre. Così quasi per illuminare userei questo. Questo qua, bellissimo, di Avon, Metallic Rain, si chiama. Ed è un ombretto liquido. Mi piace un sacco. Alla fine ricada sempre su di lui. Lo so che dovrei cambiare. Lo so. Sapete qual è la cosa? È che... Uno, mi trucco poco. Cioè, devo pensare a trucchi elaborati poche volte a anno. E poi, altra cosa, è che sono quasi sempre in ritardo. Cioè, nonostante io parta con... anticipo a prepararmi. Cioè, non è che dici, ok, ti rendi conto che devi preparare l'ultima mezz'ora, devi farti i capelli, trucchi, eccetera. Cioè, no. Cioè, io parto tre ore prima, però riesco a essere... comunque sempre in ritardo. È una magia. Cioè... Prendiamo questa... Facciamo questa palettina qua. Così faccio su tutti gli occhi Avon. Utilizzo questo qua più scuro, perché voglio fare una sfumatura esterna. Ok, tipo uno smokey eye, che però non è mai nella vita uno smokey eye. Però, giusto per dire, ok, non ho messo solo quello, cioè, solo l'ombretto principale liquido. Comunque, ragazzi, questo ombretto lo amo troppo. Infatti, io lo uso un botto. Cioè, quando devo fare un make-up più elaborato, lo uso. E... manco un quarto d'ora. Perché poi si asciuga. Cioè, è fantastico. Si asciuga in frettissima. Poi, all'angolo interno dell'occhio, voglio mettere, invece dell'illuminante, io, non so, sono abituata a mettere questo. Chiaro. Tipo un perla. E lo metto proprio solo all'angolino qua. Che dà quel tocco in più. Quindi, gli occhi direi che abbiamo finito. Abbiamo finito, no. Matita e mascara mancano. Immancabili. Matita. Ah, anche questa qua, di Avon. Tutto fornito da mamma. Come sempre vi dico che, se volete anche voi questi prodottini, o comunque provare... Per tutte le info, andate, cercate il mamma su Instagram. E la contattate in direct, così, per chiederle tutto quello che volete. Ora, momento, dove devo fare la codina. Cioè, voglio fare la codina, simile eyeliner. Perfetto. Dai. Adesso manca il mascara. Utilizzo questo qui, che è il mio preferito, di Avon, Legendary Length, che mi fa le ciglia da gatta. Il trucchetto per mettere il mascara, che ho scoperto da foto, mettere lo specchio, più parallelo possibile alla faccia, e in modo da tirarle su il più possibile. Cioè, ragazzi, voglio solo farvi capire che ciglia mi ha fatto. Cioè, bellissime. E poi la cosa bella è che, vedete, si è già asciugato e poi stanno così. Cioè, fino a fine serata stanno così. Poi voglio mettere questo di Shiglam, che è un lip gloss, quindi molto, molto semplice. Madonna, ha un profumo di fragola. Non lo vedete, non lo vedete. Madonna, è l'umidissimo, ragazzi. Bello. Ok, mancano 5 minuti. Fantastico, quindi sciogliamo. Dai, direi che il trucco è venuto, è riuscito. Ora, mi do ancora una pettinata. Allora, olietto, capelli, per fissarli e per farli brillare ancora di più. No, ma soprattutto per fissare la piega. Io utilizzo questo qua. Ragazzi, me l'ho dimenticata ai gioielli. Cioè, bracciale, orecchini. Ho detto, ma... Sembrava strano che fossi già tipo pronta. Figurati. Poi, profumino. Adesso vi faccio vedere l'outfit. Vale, non spaccare niente. L'outfit, le scarpe, tutto. Comunque, profumino, sono in fissa con questo di Avon, Wonder. Buonissimo. Abbondiamo. E ora vi mostro l'outfit. Allora, vabbè, il make-up alla fine è venuto così. Poi, pariurre con questi diamantini e questa nota musicale, ovviamente su toni del dorato, perché vedrete dopo. Maglia di Sheen, di questo azzurro, non so, indaco, bello. Poi, questi pantaloni sempre di Sheen, li ho presi nell'ultimo ordine e hanno i bottoncini dorati, quindi per questo ho utilizzato i due ieri dorati e anche, invece del bracciale, ho messo l'orologio, questo di Daniel Wellington, dorato. Poi, scarpe, ho messo stivaletti, questi di Pittarello e basta. Ah, e poi ci metterò sopra una giacca, un blazer, sempre di Sheen. Eccolo qua, bello, un po' oversize. Hai praticamente gli stessi bottoni, dei pantaloni, non li avevo presi insieme, cioè non sono, dello stesso completo, però bellissimi. Però, naturalmente, ci metterò sopra il cappotto e mi metterò a sciarpa perché va a un freddo, cane. Quindi, dai, che ne pensate? Comunque notare il casino, cioè, vabbè, sistemerò poi. Allora, come potete ben capire, è il giorno dopo, la mattina dopo e io sto cucinando le crepes. Normalità. Sono le 10.45, però stanotte sono arrivati alle... Alla fine c'era stanotte a dormire alle 3.30, 3.45. Quindi, eh, avevo la sveglia, mi ero messa la teglia alle 9.30 per poter fare le crepes, però ho detto non ce la può e quindi l'ho spostata alle 10.30. Altro che mezz'ora che ha riposato l'impasto, ma guardate quanto è liscio! Cioè, bello, bellissimo. Lì ho già messo il po' di burro. Ecco le prime, guardate che carine, poi vengono super, morbide e buone, veramente buone e senza lo zucchero nell'impasto perché poi mi tende a uscire la nutella, tengono comunque dolcissime e ho aggiunto un'altra padella perché così faccio più veloce. Altro piccolo salto temporale, questo vlog è un po' movimentato e però volevo concludere questo video in realtà già a casa, ok, c'è Milo Cabaia, e già appunto a casa mia però non ce l'ho fatta con i tempi perché io e Fede poi dovevamo andare alla partita del toro con i miei, trovarci tutti insieme e quindi i tempi erano stringati e non ce l'ho fatta a concludere il video e però eccomi qua, finalmente sono tornata a casa e quindi posso concluderlo. Ragazzi, vi dico solo una cosa, sapete, cioè vi ricordate come avevo i capelli lisci ieri sera? Guardate, pioveva, cioè onde su onde su onde anzi mi dislego proprio per farvi rendere conto cioè solamente la pioggia però sono belli, la pioggia mi ha fatto i boccoli non è che me li ha semplicemente gonfiati e basta cioè no, di qua no sono rimasta senza lì ma di qua c'è wow grazie pioggia spero che questo vlog vi sia piaciuto vi ha portato un po' con me era da tanto che non lo facevo e qua sotto nei commenti mi raccomando scrivetemi anche delle idee per dei video che vorreste vedere se vi è piaciuto questo vlog come sempre anzi questo video mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su un bel commentino qua sotto e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao